I 20 milioni di euro della regione saranno investiti nella variante Gimarra e quanto deciso ieri durante la seduta del Consiglio Comunale di Fano. La protesta dei residenti del quartiere non è servita a impedire la decisione di creare una strada alternativa alla Statale 16, prolungando l'interquartieri che dalla rotatore di Via Aldomoro si collegherà sull'Adriatica poco prima dell'Hotel Riviera. La delibera discussa e votata in Consiglio Comunale fa presente che non è priva di elementi di criticità, ma risulta secondo il Consiglio la migliore tra le quattro ipotesi oggetto dello studio tecnico-economico redatto dal dirigente dei lavori pubblici. La soluzione di Gimarra attraversa varie aree ancora verdi della città incontra nel suo percorso una serie di ville di pregio come riportato nello studio di fattibilità. Questa decisione è a seguito della convenzione che abbiamo deciso di stipulare il 21 luglio e devo dire che c'è stata un'accelerazione dovuta dalla regione Marche che ci ha messo un po' in imbarazzo perché è una scelta che dovevamo prendere, avremmo voluto confrontarci meglio e di più con i cittadini, ne siamo consapevoli, cercheremo di recuperare dopo perché crediamo che comunque ci siano tutti i margini del confronto con le persone. L'infrastruttura che sorgerà dovrà avere requisiti minimi di compatibilità, dovrà essere sostenibile e soprattutto dovremmo attivare anche un contatto costante con la sovrintendenza al paesaggio e ai beni monumentali. In questo senso l'infrastruttura che verrà realizzata lontana dall'abitato di Gimarra, apparsa in una galleria, anzi saranno due le gallerie, una naturale e una artificiale e metteremo cura e attenzione dal punto di vista progettuale per cercare di fare in modo di farla scomparire nel paesaggio anche con una schermatura, non solo facendola passare in trincea più bassa possibile, usando le gallerie ma anche usando quelle schermature ambientali che si possono avere. Per la città è importante e utile perché permetterà di sgravare il traffico di Viale Primo Maggio, Viale Romagna, Viale Vuozzi, in parte Via Roma e tante vie come Girolamo da Fano, Via Trave che in questo momento sono piene di auto e soprattutto nell'ora di punta Viale Romagna conta 700 veicoli ora in entrambi i sensi di marcia che sono livelli di traffico insostenibili per quella strada. Inoltre la strada avrà una pista ciclabile fino al Carmine e dalla Trave.